Cari amici della Lega Volle Femminile, eccoci qua al gioco di razione a catena con il team Saugella Monza, che abbiamo con Josefino Bossa, Federica Squarcini e il capitano Serena Ortolani. Siete pronte? Certo! Prontissime! Allora, il gioco lo sapete, avete alcuni secondi per indovinare la parola. Serena, quando capisci la parola, vai di campanello. Perfetto. E allora avete anche un passo a disposizione se la parola non vi riesce. Quindi, siete pronte? Sì! 3, 2, 1, via! Che colore è? Balana. Gialla! Giallo! Giusto! Sì, sei vero? Va di cinque! Bravo ragazzi, andiamo! Subito, prima parola, prima risposta trovata. Via! Cosa usi per guardare film? Serie? Televisione? Giusto! Sì, sarebbe tv, ma penso... Ok, ok. La diamo buona, tv, televisione va benissimo. Quindi, due su due. Perfetto. Ma oggi avete fatto allenamento o vi siete allenate per questo gioco? Esatto. Perfetto. Due parole e due parole indovinate. Quindi, terza parola, 3, 2, 1, via! Cosa? Mangi? Non? Salato. Dolce! Bravo! Cosa mangi? Sono bravissimi. Cosa mangia Gios? Noi avevamo paura che fosse più difficile, ma vi siete veramente allenate oggi. E dunque, tre su tre, vediamo... Vediamo come va con la quarta parola, 3, 2, 1, via! Cosa usi per viaggiare? Non aereo. Macchina. Su. Passo. Ho bicicletta, autobus, un sacco di amore. Treno. Ah, ecco, è vero. La parola era treno, in questo caso. Ragazzi, sapete... No, va bene, va bene, va bene. Dopo tre su tre, un errore ci sta, scusate, infatti. Ma il passo, sì, va bene. Il passo ce l'hanno loro, se vogliono chiamarlo durante la domanda. Invece io non ce l'ho. Vabbè, pensavo a prenderlo io. Ok, andiamo con la quinta parola, però a tre, indovinate un errore. 3, 2, 1, via! Cosa? Giochiamo. Domani. Contro. Semifinale. Quasi. Final Four. Quasi. Di Coppa Italia. Coppa Italia! Giusto! Coppa Italia! È ok, va bene. Ragazzi, scusate, ci sono andato dopo. È tardi, sono arrivati a vedere. Vabbè, vediamo quante ne facciamo su dieci, però su cinque parole, tre giuste e due sbagliate. Sesta, tentativo. 3, 2, 1, via! Cosa? Viene. Dopo? Gennaio. Sembraio. Oh, giusto! Vabbè, questa era un po' più semplice, però... Quattro indovinate. Allora andiamo alla settima parola. 3, 2, 1, via! Cosa? Usiamo per giocare... Rotonda! Palla Molten! Sì! Brava ragazzi, brava! Giusta anche questa! Quindi siamo a cinque parole indovinate, due errori. Andiamo con l'ottava parola. 3, 2, 1, via! Cosa? Mangiamo. Carboidrato? A? Integrale? Basta! Brava! A pranzo! Ragazzi, state andando veramente molto meglio di quanto pensassimo noi! Se indovinate, andiamo alla nona penultima parola. 3, 2, 1, via! Cosa? Non è naturale. Brinzante! Brinzante! Brava ragazze! Quasi un plan, eh ragazzi! Qua è la lotta con Scandicci, eh! Ve lo dico! Quindi, ultima parola. 3, 2, 1, via! Dove? Giochiamo. Domani? La? Coppa? Busto al sito? Busto? Palazzetto? Palazzetto! Ah, paleghiamo mai! Carbo, già! Busto e... Quasi, quasi! Siamo arrivate! Ci siamo arrivate sette e mezzo! Siamo un po' larga, ma già arrivo! Sette e mezzo! Tra sette e otto, sette e mezzo, facciamo come il gioco di carte. Ragazzi, sette e mezzo su dieci! Un ottimo voto, complimenti! Quindi, in bocca al lupo! Speriamo di avervi aglietato e distratto con quest'ottimo gioco per voi. Grazie per la disponibilità! Grazie per voi! Ciao! 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 Ciao!